L'importante indagine per capire un po' i numeri degli stranieri presenti in Val Seriana, avete fatto uno studio lungo gli ultimi 15 anni possiamo dire, ecco a che punto siamo arrivati, che dati importanti sono da mettere in evidenza? Sì, tra le funzioni di questo progetto dell'ambito dentro il servizio intercultura l'attenzione è anche a tenere monitorati i flussi migratori in entrata e in uscita utilizzando come fonte gli uffici anagrafe, in particolare i dati dell'Istat che ogni anno vengono aggiornati quindi da lì è possibile estrapolarli e intuire quali sono gli scostamenti rispetto all'anno precedente, se siamo in crescita, se stanno diminuendo. I dati di questi ultimi anni ci evidenziano che la crescita si è ormai stabilizzata, anzi abbiamo avuto anche qualche anno di decrescita, però sono ormai una decina d'anni che ci posizioniamo, l'ultimo dato ci dice 6.100 cittadini stranieri residenti nei 18 comuni della Valle Seriana, pari al 6,4% della popolazione che è una media inferiore a quella bergamasca che è intorno al 10%, quella della Lombarda è dell'11%, in Italia invece siamo all'8,7%. Però comunque sono numeri che poi diventano persone, quindi diventano nomi cognomi, diventano storie e lì poi con altri strumenti, altre modalità proviamo a intervenire appunto a supporto delle politiche locali per far fronte a questa novità, anche se ormai c'ha 40-50 anni questa novità e riuscire così a costruire modalità virtuose di integrazione interculturale. Guardando le fasce di età, pensando anche alla mancanza di nascita in generale, cosa si può aspettare nei prossimi anni? Allora, il grosso della popolazione immigrata arriva giovane in età lavorativa a fine anni 80, anni 90, 2000. I flussi di ingresso si sono abbastanza conclusi e congelati, avendo questa prima fascia adulta poi attivato il ricongiungimento familiare e quindi portato nuove nascite anche nella nostra popolazione. Ora questa grosso della popolazione straniera si assesta intorno ai 35-45 anni e quindi fa meno figli in modo naturale e si prepara a diventare adulta barra anziana e quindi a interessare anche le politiche di welfare rispetto a queste fasce d'età. Comunque il loro contributo alle nascite è superiore a quello delle donne e famiglie italiane. Nel 2023 l'età media di chi ha partorito in generale era 32% per gli stranieri 29, con un figlio e mezzo per le donne italiane, quasi 3 per le donne straniere. Questo è il contributo che hanno portato, ma c'è un bel contributo anche legato alla varietà. Sono 110 le nazionalità residenti, cioè che hanno qualcuno che risiede nei comuni della Valle Seriana con una predominanza di Marocco, Senegal, Romania, Ucraina, Albania. Quindi c'è una componente europea e questa componente africana di religione musulmana che porta all'Islanda e quindi ci rende anche la pluralità religiosa oltre che quella linguistica e culturale. Quindi sono altri dati che permettono di fare anche delle altre analisi, quindi anche per quanto riguarda il ricongiungimento. Ci ha citato il dato di Leffe, per esempio, curioso sulla importanza della comunità cinese. Anche questi numeri vi permettono di capire un po' la realtà del territorio? Sì, 110 nazionalità distribuite in modo differente, quindi abbiamo evidenziato che a Leffe la comunità maggiore è quella cinese che è in questi giorni in festa. C'è il capodanno cinese, si entra nell'anno del dragone e quindi ci immaginiamo dei movimenti che a Leffe abbiano saputo cogliere, così come il centro culturale islamico Avertova è una realtà che risponde un po' a tutti i comuni e tutti i musulmani residenti in Valle Seriana insieme all'associazione Annur di Nembro e questo poi porta, per esempio, a vedere per tradizione il comune di Nembro sollecitato per consentire il momento di preghiera alla fine del Ramadan o per la festa del sacrificio. Voi in una serata a Casningona avete presentato qualcuno e ce ne sono tante sparse sul territorio? Sì, parlare di nazionalità vuol dire anche parlare di culture, lingue, tradizioni, usi, costumi, modalità educative, menù diversi Abbiamo affrontato a Casningo dando voce, palco, riflettori e microfono a chi è portatore sano del proprio bagaglio culturale e si sente onorato e capace di presentarlo su un palco e quindi con modalità artistica Quindi questa è una varietà che sicuramente arricchisce la nostra realtà e di cui appunto nel convegno dicevamo dobbiamo diventare e considerarlo il nostro capitale su cui investire. C'è un buon presidio di questo processo che è evidenziato anche dal costante numero di coloro che ogni anno accedono all'acquisizione della cittadinanza italiana E quindi c'è un processo che oggi appunto ci fa vedere stabili e ci porta a stabilizzato il flusso di ingresso e che ci fa intuire che pian piano diventeranno tutti cittadini italiani o tanti e speriamo sia poi una scelta consapevole e desiderata rispetto a sentirsi sempre più parte della nostra comunità Tante culture, tante storie, tante lingue diverse si avvicinano a una data importante riconosciuta in cui le comunità bergamasche festeggiano insieme agli stranieri Esatto, parliamo di 21 febbraio, giornata internazionale della lingua madre istituita dall'UNESCO e cioè dal ramo cultura dell'ONU per appunto valorizzare un qualcosa che ha a che fare con un legame particolare quello con la propria madre lingua in questo caso ma immaginiamo anche cosa possa essere il legame con la madre patria, la madre terra È un legame indissolubile e di cui essere assolutamente grati perché è quel legame che ti ha dato la vita e ogni madre nel dare la vita offre anche le prime parole e queste sono quelle che sostituiscono l'identità di ciascuno La migrazione è quella cosa che ti porta ad entrare in contatto con lingue nuove ma non puoi dimenticare e fare a meno della tua lingua madre Allora una giornata che la istituisce in questo modo è un supporto a ciò che si può realizzare nei territori per appunto ricordarsi anche questo aspetto della pluralità Il bergamasco è sicuramente quella cosa che a tanti fa piacere sentire e parlare e così deve succedere anche per chi parla arabo o urdu per dare due estremi nell'alfabeto delle lingue che oggi si parlano anche in Varseliana Tira fuori la lingua è stato il concorso festival che dopo 11 anni, 11 edizioni un po' ha provato a evidenziare e celebrare questa pluralità e questa attenzione alla lingua madre nelle proposte artistiche che ogni anno arrivano al concorso vengono presentate sul palco del modernissimo Anembro e premiate Quella che ha vinto quest'anno tra l'altro appunto aveva il bergamasco alla base della sua opera l'autore Maurizio Norris Accure Soccane è il titolo della sua opera organico poetica proprio come una delle iniziative che il comune di Nembro ha voluto mettere in campo per celebrare la giornata della lingua madre dando spazio al vincitore, al campione in carica di Tira fuori la lingua non è l'unico appuntamento a Nembro mercoledì 20, vigilia della giornata internazionale della lingua madre sarà la piazza protagonista dove verrà esposto uno stendardo, un drappo dove raccogliere la popolazione invitata a raccontare qualcosa nella propria lingua e a immortalarla su questo drappo stendardo è una sorta di arte collettiva, un'installazione bella ci immaginiamo siano altre le realtà che a livello bibliotecario o scolastico sto pensando alle classi della scuola di Prada Lunga e di Abbazia di Albino che si sono presentate in concorso a Tira fuori la lingua quest'anno proprio con delle opere che hanno provato a valorizzare la lingua madre e la pluralità linguistica che ogni classe vive perché appunto si manifesta anche lì il 21 febbraio poi per tradizione è anche l'anno in cui lanciare il nuovo bando per Tira fuori la lingua dodicesima edizione a fine novembre lo spettacolo finale al 31 ottobre scade il termine per presentare le proprie opere di vario genere artistico capaci di celebrare, dire bene della propria lingua madre e del proprio bagaglio culturale e appunto il 21 febbraio online il nuovo bando per iscriversi Tira fuori la lingua continua